Ciao a tutti sono Alessandro per il blog Nexus Lab oggi insieme alla pubblicazione del nostro articolo anteprima pubblichiamo anche questa breve video anteprima di Iris il programma di riconoscimento vocale e riconoscimento interpretazione della nostra voce che fa un po' da controparte rispetto a Siri per iPhone 4S da cui prende anche il nome infatti Siri è la versione per Apple iPhone mentre Iris che è il nome di Siri al contrario è l'applicazione per Android andiamo ad aprire l'applicazione dovrò avvicinare il tablet alla mia voce altrimenti non riconoscerà il mio parlato ciao Siri io ho scelto ciao Siri adesso ho detto apposto a Siri per vedere cosa dice non dicendo Iris ciao mi ha risposto comunque anche se io ho detto Siri al posto di Iris insieme mi ha anche pubblicato una videoclip di un film denominato ciao andiamo a chiedergli qualcos'altro sei un maschio sei un maschio? io ho scelto sei un maschio non supporta ancora nativamente l'italiano quindi il text to speech no sono femmina no sono femmina perché abbiamo detto Siri proviamo a dire ciao Iris io ho scelto ciao Iris vediamo cosa ci risponde che fai? faccio un video io ho scelto basta un video adesso qua è un problema di riconoscimento della voce non tanto del programma adesso non ha capito proviamo a chiedergli qualcos'altro cosa fai stasera? io ho scelto cosa fai stasera? adesso sta pensando cosa fai stasera? te audio work di Marco Ferradini quando non trova ancora un riscontro va a cercare su internet e trova brani film o voci su wikipedia corrispondenti a quello che abbiamo detto proviamo a chiedergli qualcos'altro sono un po' stanco io ho scelto sono un po' stanco aspettiamo hai dormito poco? come potete vedere come potete vedere lui risponde in merito a quello che ho detto io si ho dormito poco io ho scelto si ho dormito poco aspettiamo che pensi? buonanotte allora ci suggerisce di andare a dormire possiamo chiedergli fatemi pensare Iris ti piace android? io ho scelto Iris ti piace android? non fate caso appunto quello che dice con la voce come vi ho detto non supporta ancora nativamente l'italiano Irisiste God of Rainbox lo potete vedere ha risposto in modo simpatico proviamo a vedere hai un animale domestico? io ho scelto hai un animale domestico aspettiamo no è grave il tuo culetto a volte risponde ancora un po' senza senso dicendomi qualcosa sul mio culetto vabbè chiediamo provochiamolo ancora un po' ti piace iphone? io ho scelto vi piace idonee adesso abbiamo sbagliato lui ha messo vi piace invece di ti piace vediamo un po' se comunque riesce a intervenire ti piace iphone? ok adesso l'ho preso aspettiamo un attimo mi piace gli piace proviamo ti piace nokia? io ho scelto ti piace nokia ecco ti piace poi la smettiamo io ti amo beh dopo aver detto nokia lui ci ama evidentemente ha qualche simpatia proviamo a dire anch'io ti amo io ho scelto in questo momento mi sento anche un po' scemo però vabbè è giusto per farvi capire come potete vedere gli piace questa cosa proviamo a dirgli un'altra cosa un po' più tecnica per esempio the final countdown adesso verifichiamo se lui cerca la canzone su internet potete vedere lui ci dà i dati della canzone ce li legge se noi clicchiamo sulla canzone però lui ci apre la relativa pagina wikipedia molto carina questa cosa anche se questo tipo di di funzione quest'ultima che vi abbiamo mostrato era già presente con altri riconoscimenti vocali ultima cosa conosci nexus lab vediamo dubito che ci conosca no conosco io disarce si conosco ora lui ci ha mostrato ci ha chiesto se conosciamo hogwarts la quella di di harry potter poi ci chiede se siamo tedeschi no italiani io ascedo no italiani quanti anni hai 24 ora ci fa l'interrogatorio è quasi surreale sta cosa è lui che ci domanda nelle cose tu quanti anni hai iris io ascedo tu quanti anni hai speriamo che prenda la frase visto che è lui che sta interrogando noi 25 sei carina io sei carrozzina sei carrozzina penso che ci chiederà cosa vogliamo dire sono un ragazzo come potete vedere anche il sesso è un po' confuso se è un ragazzo una ragazza una donna come aveva detto qua aveva detto che era una femmina direi che basta come video anteprima appena uscirà fuori dall'alpha il programma vi mostreremo il programma in definitiva sperando che rimanga gratuito vi rimando poi anche alla video recensione dell'IDEOS che vedete qui davanti un saluto da me Alessandro e da tutto lo staff di Nexus Lab ciao ciao